Allora adesso facciamo uno scoop e vi porto nel magazzino dell'associazione La Formica che a Padova organizza il Dona Cibo. Vedete un sacco di cose qui sugli scaffali e abbiamo qui anche, già lo conosciamo, il presidente della Formica, Damiano, che ci spiega cosa troviamo qui negli scaffali. Allora io qui vedo alimenti per bambini, abbiamo dei bambini piccoli ancora, abbiamo del tonno quasi finito, abbiamo del pomodoro, dei fagiolini, ancora del tonno, ho il lacameo con qualche dolce, della farina, del riso, abbiamo molta pasta, come vedete la pasta è molto donata, magari non donate la pasta ma donate qualche condimento, abbiamo vari tipi di olio, qualche legume, un po' di marmellata, qualche succo di frutta, un po' di farina, dell'olio di girasole anche, qui abbiamo ad esempio anche del latte, a lunga conservazione, con dei biscotti anche, qualche pastina, la passata di pomodoro, qui ancora molta pasta, fin troppa. Benissimo e qui abbiamo anche il volantino del Dona Cibo che si terrà dal 9 al 14 marzo. Che cosa diciamo ai ragazzi delle scuole che parteciperanno al Dona Cibo? Partecipate donando, questo gesto sicuramente aiutando chi ne ha bisogno, vi può fare diventare grandi condividendo questi bisogni.